Il Consiglio regionale ha preso atto della relazione sull'attuazione nell'anno 2013 della legge 8 sulla semplificazione amministrativa. Il documento illustrato in aula dal consigliere Luca Barberini del Partito Democratico evidenzia una riduzione delle procedure e dei tempi dei procedimenti, minori costi amministrativi, maggiore accessibilità degli atti, la sensibilizzazione alla cultura della semplificazione. Gli aspetti principali che hanno caratterizzato l'attuazione della legge durante lo scorso anno sono la redazione dei testi unici su artigianato, turismo, commercio e governo del territorio, la riduzione di numeri e tempi delle procedure e dei procedimenti con aumento di adeguatezza e trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, interventi per la comunicazione istituzionale e attivazione di un canale apposito per la trasparenza amministrativa, quindi semplificazione delle autorizzazioni in materia ambientale relativamente all'autorizzazione integrata per le imprese, alla manutenzione per i corsi d'acqua demaniali, autorizzazioni per impianti legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Abrogate 17 leggi con la riduzione del numero dei procedimenti da più di 1.000 a 535, riduzione dei tempi medi dei procedimenti del 24% anche attraverso l'utilizzazione dei percorsi di digitalizzazione, cioè di dematerializzazione degli atti dirigenziali.